Un primo importante risultato i sindaci della Bassa Irpinia lo hanno raggiunto. È stato rinviato a mezzogiorno di domani il Consiglio regionale della Campania convocato per approvare il disegno di legge di riordino dei servizi idrici integrati e degli ato territoriali, norma contenuta all'interno della legge finanziaria. A motivare il rinvio è stato il mancato raggiungimento in aula del numero legale, soddisfatti parzialmente i sindaci e gli amministratori del Baianese Vallo di Lauro che alla vigilia del Consiglio regionale avevano chiesto di far slittare l'approvazione del disegno di legge dopo il 31 maggio invitando inoltre i rappresentanti istituzionali irpini ad abbandonare l'aula per far venire meno il numero legale. Un appello che è stato accolto trasversalmente dai consiglieri regionali Rosetta D'Amelio, Antonia Ruggero e Sergio Nappi. Li ringraziamo per il loro sostegno ha dichiarato il sindaco di Baiano Enrico Montanaro che era a Napoli questa mattina per protestare insieme ad altri amministratori campani contro la regione la sua intenzione di far passare la legge. Hanno dimostrato di essere sensibili alle istanze di chi è ogni giorno a stretto contatto con le cittadinanze. Attendiamo con fiducia la giornata di domani nella speranza che i nostri rappresentanti irpini contribuiscono a far slittare l'approvazione del provvedimento alla prossima legislatura regionale.